Artisti, musicisti, fotografi, registi, architetti, progettisti, scrittori, esperti di ambiente, territorio, natura e cultura si sono dati appuntamento il 5 novembre nell'ambito della Notte delle Arti al Circolo del Design di Torino per l'iniziativa organizzata dal Parco del Poe Collina Torinese sul tema Uomo e Natura. Durante l'incontro si è tenuta la cerimonia di consegna del diploma Menand Biosphere Unesco ed è stato rilanciato il bando di concorso Vedere l'invisibile sul design sostenibile.